Grazie Presidente, ovviamente insomma dopo il Ministro, il Presidente e il Capogruppo della Commissione insomma hanno già detto ovviamente tutto quello che c'era da dire in merito a questo momento in cui posso solo che essere orgoglioso e orgoglioso di essere un senatore della Lega al primo mandato perché questa è una battaglia della Lega da tanto tempo, da tantissimo tempo, per cui essere diciamo un attore di questo film meraviglioso che si chiama Etichettatura e Made in Italy mi rende orgoglioso e non posso che ringraziare per questo un Ministro, un Ministro molto dinamico, un Ministro che solo lunedì era sulla mia terra in provincia di Savona a dimostrare quanto sia efficace il lavoro che sta facendo in questo momento il Ministero. Credo che l'etichettatura sia qualcosa che rende nobile il nostro prodotto e credo che garantisca una filiera della chiarezza, che non solo della chiarezza ma anche della salute perché io ricordo insomma mia mamma mi ha sempre dato prodotti ben chiari e identificati sul nostro territorio, io vengo da un territorio in confine tra la provincia di Savona e quella di Imperia, abbiamo delle eccellenze come l'aspargo violetto, come l'aglio di vessalico, il carciofo di albenga, quindi ci sono tutti quei prodotti che in questo momento grazie a questo intervento avranno ancora più una nobiltà e soprattutto renderemo facile per coloro che hanno e che tutti i giorni vanno sugli scaffali a comprare la merce per il cibo per mangiare e avranno chiarezza di cosa vogliono comprare. Fa specie, e qui voglio essere molto più breve degli altri, fa specie solo che se 9 persone su 10 in Italia volevano questa cosa qui sia accaduta solo oggi, quindi ancora di più un merito enorme al gruppo Lega che ha dato con forza, ha fatto richiesta con forza di questo provvedimento e il Ministro che l'ha perseguito e quindi credo che oggi sia una grande vittoria di tutta l'Italia, del Made in Italy in modo particolare dell'agricoltura che per noi rimane un'eccellenza. Grazie.